cambiato un massaggio su telegram se riesci li leggilo va bene ma in privato no non ho capito che è su telegram non ho capito uno in chat mi ha detto guarda telegram ragazzi i giorni passano e le robe si fanno sentire sto un bel po' devastato questo che è? ricompense ricompense ci sono ragazzi e qua sta roba pure allora un attimo solo raga fatemi sbloccare qua sta roba madonna quante pagine c'ho ah ok poche vabbè qua c'ho un po' di oro quante buste c'ho cinque quattro no la prossima volta allora andiamo a vedere airstone airstone ragazzi ci abbiamo un po' l'ultima volta abbiamo provato l'ound hunter abbondantemente l'abbiamo provato abbondante hunter l'abbiamo provato c'era un deck solo che mi piaceva provare che mi faceva un po' schifo quando lo trovavo contro che proprio mi faceva girare i coglioni in un modo che uno nemmeno immagina che si chiamava il taddius il il porco de cristo fortissimo taddius le carte che costo disparo costano uno e cambia ogni turno fortissimo 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 con provocazione dio cristo a turno 6 potresti mettere pure un 11 11 un 6 12 con provocazione o altra roba cioè è forte cazzo risuscita un turno morto e gli fornisce rinascita forte cazzo forte cioè questo è forte forte questo no ancora non sono arrivato al legend ma questo chi cazzo è in chat allora cazzo forte questa pure scarta la casta con il costo più alto inflige danni pari al suo costo a tutti i servitori forte dio cristo una oe a turno 4 che è forte 7 7 con provocazione non può attaccare però ci abbiamo il un'altra roba evoca una copia boh non lo so pesca tre carte scegliene una da scartare seleziona un tuo servitore evoca un gigante questo è forte 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 e poi mercandola forte un mazzo questo è un mazzo ragazzi troppo forte raga porco dio smettetela vi banno tutti porca madonna io non sono vostro padre smettetela di insultarvi a morte porco dio adios porca madonna come li bambini porco dio mi tocca fa ma io posso perdere tempo così qua ecco contro hunter bello preciso rimbiene gioco un movimento metti altri 6 nel tuo mazzo ok non lo so stanno a dispare cioè meglio che mori con quelle pistole ok allora ghost game che bello molti dovrebbero ma io ho messo il modo io ho messo poi se lo vuole banali banale senti 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 non si scrive questo cazzo di nuovo mandamelo in privato se lo rompi lo devi giocare ok se giochi giochi di carte ok Se no è un casino Cioè spiegarti come funziona Aerson E come spiegarti come funziona briscola E tutte quante le Cioè briscola Cosa sono i semi Come funzionano i denari Oppure come funziona Queste cose qua Cioè nel senso Lo devi giocare Per capirlo Distruggere Si si ora cambia la categoria Un attimo questo Un attimo questo Il nostro topo Il nostro topo Il nostro topo Ok Allora 3,4,7,2 Eh non lo so Stiamo dentro un ponte però Dentro una fossa Però è un casino qua Freccia tagliente Mira ancora più tagliente Boh Allora Rantone di morte Grillo di battaglia Scarta un morto Porca la madonna Allora non so se è buona sta cosa Però non credo Questa da dove cazzo l'ha presa Riesco a trattare tante carte Dio Cristo Quattro carte Dio Cristo Dio Finito Allora Vediamo Se riesce comunque A fallita Vediamo Ma che cazzo Ma come cazzo è possibile Che questo già tre danni Quattro Il più due danni magici Come cazzo è possibile Io non ho capito Come Mi sono perso Tra questo che scrive Che augura la morte Guarda Non lo so Se stavate a parlare Stronzate o meno Però queste cose qua Non si parla Se no Ve banno tutti O dopo andate a piangere D'arca Beh a scherzaggio Scherzi da solo Per i cazzi tuoi Non qui sul gruppo Porco Dio Robo Jaraxxus Contro Anduin La luce porterà Alla vittoria Affronti Robo Jaraxxus Se leggo capisco Questo via Rimuovi Ed elimina Via Uno in chat Che ha scritto Sei proprio Un napoletano Di merda Bene Via Poi Grazie per felice Si 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 Ma Xivor puoi essere quanto ti pare ma... Il campo sta per scadare! Il campo sta per scadare! Ok! No no semplicemente ha scritto cose che non... Cioè nel senso non... Cioè secondo me non si devono scrivere su un gruppo! Ma in generale! Cioè quello gli riscrivi in privato a un amico! Magari puoi scrivere ma se stai su un gruppo telegram te devi comporta bene! Cazzo non è che puoi andare a scrivere quelle robe là! Dai su! Cazzo! Ho dovuto cacciare altre persone dal gruppo! Mi dispiace! Sei una pedina dell'ombra! Dai! Non se fa! Non se fa! Dai! Non se fa! Dai! Che cazzo è? Ma dov'è scrivere quelle cose? Dai! Non se dice manco per scherzo! Eh! Beh! Mi serve tutto! Oh! E che... Guarda come parla questo! Eh! Però... Calma pure tu M Gamer! Non ha... Anch'io tante volte sbaglio però calma con le parole! Allora qua ragazzi praticamente mo abbiamo sta roba qua non è male! Gli Hunter certo li soffriamo gli Hunter! E una madonna se li soffro! E li soffriamoci! Scarta un turno morto casuale! Qua io! E ne evoca una copia! Alla randolo di morte però! Allora! 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 Speriamo... Questi! Questi levano un sacco di danni a già tre! Cioè ma è incredibile che questi... Già cinque... Ma non è normale sta cosa! Qua passo! Grazie mille nido potabile! Sette mesi delle sab! Grazie mille! Un bacio enorme! Grazie! Grazie mille nido! Come si fa a condividere la sab da telefono? Allora! La sab da telefono... Praticamente devi aggiornare... No! Da telefono! E devi uscire e rientrare! Devi uscire e rientrare! Allora! Qua ragazzi! Quello la c'ha rinascita! Ma noi abbiamo una spirale tale! Qua... Dovrebbe essere super safe la cosa! A meno che... Oddio cane! È troppo tardi! Devo... Obedire! Oiii! E qua che è? Non tenere quei pensieri tu! Ok! Ok! Pari e pari! Cioè questo alla fine metto un 1... Un 1-11! Un provocazione! Cioè a costo 1! Non procederai oltre! Non abbiamo ancora finito con te! Un 2-11! Vabbè... Porco dio no Ah però se torno Ah ok se muore nel turno dell'avversario però Se muore nel turno dell'avversario però Eh dio cane però Vabbè Ho capito praticamente noi turno 1 Dobbiamo andare alla ricerca delle cure ho capito Alle delle cure perché qua Altre cose non ci stanno purtroppo E facendo la missione è veramente figo Tutta colpa tua Colpa mia Veon No 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 ma che ma che ma che Allora il mazzo secondo me è forte E io posso dedicar un po' di tempo A sto mazzo Grazie mille 4 mesi di resabba grazie Un saluto da Torre Pana San Patrizio Grande grazie mille Grazie Giorgia come stai Madonna Giorgia E tanto che non ci si vede Che non ci si sente più che altro Come stai Tutto bene Hai trovato un lavoro Allora Io qua ragazzi levo tutto Mi servono carte che cura Poi il resto è option Questo serve Allora secondo me serve questo Se mullica per questo C'è tutti i cazzo di aggro Vuoi sentire la mia playlist? Vuoi sentire la mia playlist? Ecco appunto Certo Non è che mi fa piacere Averne due Però Turno 3 Eh spero di non morire Dio Cristo Faccio questo Poi turno 4 Dobbiamo Vediamo perché non so Non mi conviene farlo Su questo qui O forse si Dipende Non credo Perché noi dobbiamo togliere questo Dobbiamo togliere quello Mi serve un drop da 4 Forte Vabbè Ah due di questi Alla fine ci sta Sono buoni Due di questi Perfetti E Turno dopo Ci abbiamo questo qui Ancora non ho capito Rinviene il gioco Un movimento Non ho capito ancora Che cosa sia il movimento Sinfonia dei peccati Stta carta si chiama Sinfonia dei peccati Sinfonia del porco De Dio praticamente Questa è la carta Dedicata a me proprio La sinfonia dei peccati Oh 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 Porco Oh 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 Porco Dio Sì Sì Questa qua È la cosa mia È proprio Sinfonia La carta De Mattakest Questa Ma Porca troia Più 6-6 Secondo me è questa C'è rinascita? No Non c'è niente Ma sei un tentacolo con le statistiche? Ok Che cazzo è porca troia Ma come viene revocato Ah sei uno 6-6-12 Porca Eva 6-6-12 Cazzo C'è ma questo è a turno 5 raga Ma è una roba incredibile A turno 5 Ma è che stiamo parlando Ma non lo so se è normale sta cosa Ma non so se è normale sta cosa Oh guarda No non è normale raga Non è normale secondo me Non lo so Non lo so Io non ho mai giocato sto deck ma Non ho mai giocato sto deck ma Non credo che una cosa del genere sia normale Quello che mi sta succedendo No non è che scendano le gnotte che Non c'è via un mazzo di Cristo C'è via un mazzo di merda Che mette lì robola Madonna di Dio Eh ma non C'è non si può fare niente raga Se pescano così Oh Sono forti cazzo Ma anche con l'hunter Ma anche con l'hunter Se pescano in questo modo Io C'è alzo le mani Grazie mille Yolanda Qtq 58 mesi Eresabba Grazie Che tepe Ese nel merito Corvo Grazie mille Bellissimo Contro agro No va bene agro Ci abbiamo le provocazioni Ma Due volte di fila Me la Me la annullate Ma cioè Una sfiga della madonna Direi Direi Non me piace Tutta merda Ah pure lo coin Abbiamo messo dentro lo deck Pure lo coin Questo ci può mettere dentro questo Procure Ma che cazzo è Rock'n'lord troll Mai vista come carta Mai Prima volta Non gioco da tanto Quindi magari dico Boh ci sta Però Figa dio Uno Ok qua praticamente Scarta un non morto Quindi ci dobbiamo scartare Sia questo Che Questo qua che c'ha la provocazione E c'è scarta pure questo Volendo Ed è forte Molto forte Molto forte Questi due Uno di questi due Perfetto Vediamo Ok Oddio Cristo Tradi? Ok Già La sinfonia cambia Già la sinfonia cambia Eccoci Porco diavola Ti piace? Oddio 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 quando mi piace Per tutto ciò che ho dato Mi spetta una ricompensa Per tutto ciò che ho dato Mi spetta una ricompensa Ci scendi? Oh porco dio Oh porco dio Uno Due Tre E quattro Ok E una madonna raga Che dite È forte? Porca È forte Questa roba Dio di polarità Dio Cristo Dio Ah che scherzi Che è fortissima sta roba Cioè sta roba è forte Cazzo Eh ragazzi Ho scritto cose Che non dovevo scrivere Sul gruppo Telegram L'ho bannato Poi Ripeto Cioè a me non me ne frega un cazzo Se uno ha la sub Da dieci anni Cinque anni O di più Eh se uno scrive Buttanate io lo banno Eh soprattutto insulti Di quel calibro Cazzo scrivi Cioè non so tu fratello E su una cumbione ti bisogna Rispettare le regole Se uno fa parte di una community Dentro una community ci sono le regole Ci sono community dove puoi dire Puoi fare quello che cazzo ti pare Nella mia community ci sono queste regole Se ognuno è libero di fare quello che gli pare Quando uno entra dentro il gruppo Telegram c'è scritto chiaro e tondo Accetta le regole Ovvero punto esclamativo Regole Rispetto tra membri Obbligo username No flame barra trolling No porno, gore, spam Non citare altri streamer Non insultare lo staff No insulti calcistici Non parlare Non parlate di gtrp O di server 5m No razzismo, omofobia, fascismo, nazismo Abuso del comando Ghioccio admin Cioè Voi ditemi Gli insulti tipo sui napoletani Direi napoletani Qua Napoletani di merda O cose del genere Cioè che cazzo gli devo dire Direi napoletani di merda Ci sono i posti adatti Dove poterli aiutare Ma non è di certo il gruppo Telegram mio Sì, sì Non dico queste cose Che dopo decontestualizzano tutto Comunque Pesco tre carte Uno Ma questo è Taddius Su deck Siamo sicuri? Ho preso Taddius È mia che mi ricordo io Ma Eh? Deniem Che poi sta scritto pure qua Che poi le cose sta scritte pure qua No, no Non c'ho bisogno di moda Deve capito Che poi Se c'ho queste carte qua Prima sono stato proprio sfigato Adesso che ce li penso Cioè contro il rog Se io c'ho queste carte qui Queste Profanazione E queste Cioè sono stato proprio sfortunato Che poi le cose sta scritte pure qua Faccio il power Faccio così E distruggo quello Cioè, queste carte Sono forti, Cristo Dio Ma a trovarle prima Erano perfette Ma a trovarle invece così Minchia 1, 2 Il drop è da 3 Mi manca il drop è da 3 Ok, 1, 2 Ok E non lo so se riesco a fare tutto Comunque ci provo 1, 2 Che dite, è buono? E com'è possibile? Dimmono tu Dimmono tu Com'è possibile? Com'è possibile? Dimmono tu Me coglioni Ma che finisce ieri Forza Catania Ma te pare Quando la live arriva A un'ora Allora magari Se manca un'ora Allora c'è da preoccuparsi Ma fin quando non manca un'ora Fin quando ci stanno 2 ore 3 ore 5 6 Io non mi preoccupo Quando manca un'ora Posso iniziare a fare il countdown Anzi Ancora meglio Quando mancano 10 minuti Perché poi la gente lì inizia a donare Ah quello pure io sto contento Madonna Ma è stata comunque un'ottima maratona A prescindere se dovesse finire anche domani Se dovesse finire pure domani Il tempo stringe Chi si nasconde adesso? Chi si nasconde adesso? Allora lui ce l'ha a modo di far carica No non credo Non mi prenderanno mai Non credo che abbia modo di fare carica lui Ah buono grazie Figa una madonna Cristo Dio 4 8 Vabbè Eh magnetismo provocazione Perfetto Non è Vabbè Vabbè Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Eh, non lo so se riesco a vincere, ragazzi, perché questo ha fatto l'arma, io non me l'aspettavo. L'arma, cazzo. E bravo lui. E bravo lui, porca Dio. Ok. Si piglia un po' dei danni, questo. Noni, porca madonna. Eh, niente. Allora, ho sbagliato sicuramente un sacco di robe, ho sbagliato, però... Ah, mo' devo focussarmi ancora di più, perché già che... Matteo sa che sto gioco non va molto virale, lo so. Ma non è che divertirvi, ragazzi. Cioè, il fatto è che devo... Eppure a una certa ora, qualsiasi gioco faccio, è ovvio che non è divertente, ragazzi. È ovvio. Non ho capito, però, di nabbi, ci sta un punto esclamativo programma... Sta un punto esclamativo programma, se vuoi... Anzi, te banno, perché... Guarda, non mi interessa proprio. Cioè, punto esclamativo programma, scritto sul titolo, pure... Facevi punto esclamativo programma e vedevi il programma quello che è. Tanto sarai uno di quelli che vengono per romperli i coglioni. Sicuro. Come quelli imbecilli... Quei due imbecilli di ieri che mi hanno detto che... Ma perché non me trovo una famiglia, non faccio una famiglia, le figlie, invece che farei maratone. Quindi, preferisco... Toglio dalle palle sta cendere. Allora. Grido di battaglia, infligge... Beh, questo non è male. Non è male, anche se forse era meglio tenersolo. Non lo so. Ma questo è il deck cotadius, lo scelgo... Ma è quello? Cioè, quello mi chiedo. Penso di sì. Le carte sono quelle. Dio Cristo, Dio. Questo è un bello top deck, eh, proprio. Preciso. No, chiapatelo. Ciao. Ok. Il ROG funziona... Allora, il deck del ROG, eh. Io lo conosco molto bene. Allora, io gli do questo, non è un problema. Cioè, sì, fa male, per carità di Dio. Non lo metto in dubbio. Però questo lo posso togliere se lui gli fa le cose sopra. Se lui gli fa tante cose e magnetismi sopra, io lo posso evocare. E appena gli fa danno cose... Cioè... Infligge due danni e un nemico casuale. Quindi posso fare anche questo e questo dopo. Magnetismo. Ok, perfetto. Non è un problema. A chi magnetismi si fa, eh? Ok. Dai, porco Dio, però. Che paura, puttana madonna di Dio, porco Dio. Che paura. La tua anima si dissolve. Allora, peschiamo le carte. Buono. Boh, guarda. Ha detto... Guarda. Per la mano che c'ho... Ah, non funziona? Io nove danni non è che me li voglio più a nove sberna. Talmente stupido che fai... Ok. Spero che non c'ha furtività di nuovo. Cristo madonna della madonna del Dio. La puttana Eva del Dio. Basta furtività. Raga, invece... Continua ad avere... Ste porco Dio di furtività. Puttana di quella Eva della madonna. Quanto tattico servitore si nasconde? La tua anima si dissolve. Il giocatore sarà molto più divertente da rubere. Non negate nel vostro dolore. T1, T4, N0. Vicino al completamento. I giocattoli sono molto più divertenti da rubere. Sì, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Sì, è nessuno. Ero. la creatura del transca supera le aspettative del 15% la creatura del 15% e devo fare una roba del genere per forza devo fare per forza questo e cercare un'altra spella da uno poi ci faccio pure aerobower magari per trovarlo ma vediamo se la trovo no? no non ci faccio niente niente sei qui per il tour? niente quel servitore ha già attaccato un laghi Sara Marchioni c'hai Sara Marchioni secondo me c'hai secondo me non sei normale mi dispiace c'hai problemi da testa secondo me fatte curata da uno bravo perché scrivere quelle cose non si dicono mai non si dicono non si dicono né né in una community e nemmeno per strada se tu mi vieni già e mi scrivi queste cose ti auguro di trovare un marito qualcuno che ti tratta bene perché se ti comporti qui c'è agli occhi di chi ti guarda sei solo una deficiente e smetto qui ma uomo donna quello che cazzo è sai che questo è cyberbullismo? lo sai che questo invece è deficienza pure invece? questo è a me che donna non me ne frega un cazzo una che me ne scrive boni lì questi qua una che me ne scrive questi qua cioè come come la vuoi chiamare? sanatemente? la vuoi chiamare sanatemente? una che ti scrive queste cose qua? dimmi la vuoi chiamare sanatemente? un po' deficiente lo è? un po' deficiente? devi essere un po' deficiente per scrivere queste cose non è che un po' disadattata devi essere perché non è normale poi vabbè tu mi dirai vabbè cyberbullismo sarà cyberbullismo come ti pare ma non è normale leo pazze ciao bello come stai? notorious? non ce credo no non puoi essere non sei tu è impossibile è impossibile no no non siete non ce credo io ho capito mi segui ma tu mi segui cioè con un altro account non è possibile non siete non è lui raga ho controllato la chat non è lui c'era 70 messaggi quell'altro c'aveva più messaggi quello vero e allora dimmi come ti chiamavi di preciso reale ravi stavo giocando altro deck prima sto osservando attentamente stavo giocando altro deck non me ne soccorto dai dammi i portali ok oh bello finito oddio cristo vai c'ho questo poi gli butto dentro questo gli faccio l'assalto addio da quel cane di dio al duron da merda la pecca dovendo lo bucio del culo porca puttana allora certo che mi ricordo di dio pazza come stai si si certo che mi ricordo poi non t'ho più visto però non te so più visto però ciao bello mio non procederai oltre ero fan numero uno ok non voglio vedere che cazzo combina l'opponente perché se rimuove il 7-4 ma questa da dove cazzo l'ha presa da dove cazzo l'ha presa vabbè ma non è un problema perché tanto adesso noi facciamo un bucio del culo grosso come una capanna ok iniziamo a metterlo 6-12 ci vai ci vai guarda vai vai è riuscito a togliere quella merda di prima ma questa riesce a togliere anche questa e porco ladro oddio ma ce la tutte ma mi sa che non ce la fai figlio mio eh no eh 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 sì non posso eh bravo bella giocata mi fa piacere ok a mo' sarà finita però ah 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 è da madonna ma non è vero che è cattivo è malvagio allora le prime tre partite ragazzi allora la prima partita non conoscevo il deck vabbè poteva starci la seconda partita ragazzi una sfiga terribile la terza ancora sfiga la quinta ho vinto la quinta ho vinta sto a 2-3 con sto deck 2-3 2-3 che devo fare c'è un po' sta che magari per ma tutti hunter cristo del dio tutti hunter cristo puttana della madonna tutti hunter che cazzo gli racconti agli hunter gli hunter qua mullichi come se fossi un hunter mullico cioè come se fosse anti hunter cioè fondamentalmente con provocazione spell da 1 spell da 2 queste robe qui cerchi di ok questo è il deck quello che ho usato sempre io non è lo spell la foto di palestra al posto di quella di Anna Pepe la metti ma mica me l'ha mandato sul set ma ti pare ma stavamo a scherzare stavamo a giocare ti pare l'ho beccato a mangiarsi a stanzi ah in realtà c'è un assalto ma che cazzo me ne frega io posso fare pure i ro-power cioè qua c'ha senso fare analisi in corso ma faccio i ro-power e va a fare un culo qua la sinfonina dei peccati è buona eeeh in caso noi turno dopo ci abbiamo una spell da 2 che toglie tutto toglieva tutto toglieva tutto ma noi abbiamo una spell da 2 qua in realtà io switcherei pure le carte però non lo so non so se farei serpinnus ma non penso dovrei sì ma non credo da quanto tempo c'è la power per l'account basta che me lo dice il controllo user power tv come si chiama power tv power e basta power eccolo allora power ce l'ha in data 15 dicembre 2012 minchia 2012 chi cazzo c'era nel 2012 qua su twitch analisi in corso allora non piace però noi abbiamo questo che non è mai movimenti movimenti dei peccati ed è un demone dio cristo ed è un demone di merda è un demone di merda noi per giocare in curva più che altro perché inefficienza di mana che se no è un casino qua ok io col cazzo che trato che ti sembra che sto scemo io io non trato qua analisi in corso non mi piace fare questo onestamente devo fare questo poi che altro faccio questo pure ma lui potrebbe avere quella lì che mette faccio questo e passo a me che cazzo me ne frega cioè a me che cazzo me ne frega cioè tanto lui ci avrà sicuramente la cosa del gatto porco dia va la morta dio e questo è forte questo è forte dio e questo è forte e adesso posso pensarci di fare qui però lui c'ha la frizzing trap secondo me quello era un demon ma non era non morto esco tre carte uno uno ma non Allora Ok quindi Non è quella lì che quando Consumi tutto il mana Sarà qualche altra stronzata di merda Eeeh Uno è freezing trap Sicuro ci 100-100 Mmm Allora Innanzitutto questo Questo poi Facciamo anche questo Io non inizierei da questo Non lo so Faccio sta roba Vabbè Evoco pure un 3-3 Sti cazzi del 3-3 A me mi fa paura più che altro l'arma 5-3-8-2 Potrebbe avere la spell da 7 Che evoca le cose Ok E dov'è questo Faccia Madonna fai Perché non lo fai in faccia a me No 7-3-10 13 Guarda la madonna Che culo Ma perché non è andato faccia Non ha il senso della prospettiva 2-3 3 Ah non ce l'ho più Aspetta 3 Aspetta 2 Cazzo Non ce l'ho più Niente Mi sono rincoglionito Niente Mi sono rincoglionito Mi sono rincoglionito io Niente Ho perso Non c'ho Mi sembrava la spell da 2 Quella madonna De Dio Mi sembrava la spell da 2 Che faceva un danno a tutti Niente Mi sono sbagliato Mi sembrava la spell da 2 Quella che facesse un danno Ragazzi a me non mi segue nessuno Basta Basta scrivere ste robe A fronte Robo Zaraxos Streamer famosi che mi seguono Paolo Idolo Pizza Italian Dog Cane Lupo Andrea dell'N Guarda Paressia Questi Ciccio Gamer Sì 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 Ciccio Però ci stanno tanti Che Acquisto sulle palle Ma ci sta Se stai simpatico a tutti Non è bello Significa che ci sta qualche problema De fondo Boh Io qua levo tutto Quanto tempo ci hai messo a fare il tuo primo Legend Non lo so Sto a giocare un deck che Un po' me Penso La puzza Non è che mi piace Un gran che Il primo Legend Quando ci ho messo per fare la Legend Allora Considerando che io gioco sempre Quando sto lucido De testa C'è una cosa Perché se no sbaglio Faccio errori su errori Non so un Pro Player Il Pro Player sta qua E gioca bene sempre Cioè Sempre Il mio primo Legend L'ho fatto Nel 2016 No 2017 Panne Mars Ciao bello Lo so Sto a rank 3 Dovrei un attimo Giocare deck Più forti Tipo Hunter Lo so Che l'ho masterato Ma questi Questi sono deck Un pochino più Complicati Diciamo ecco Un po' più skill base Per esempio qua Per esempio Io qui non avrei fatto Hero Power Perché Sì ok Pesco una carta Però in realtà A noi Ci serve un turno 3 Eccolo Se ci veniva fuori prima Sarebbe stato Era perfetto Però Ci è venuto adesso E Quindi nulla Io qui Mi libererei Tipo di due carte Farei questo E questo Allora No ci serve Questo E poi dopo Facciamo Hero Power E peschiamo Due carte Peschiamo Poi Una volta fatto Questo Hero Power E poi dopo Mettiamo dentro Questo Tipo Cioè secondo me Ci sta Come giocata Questo Hero Power Passo Turno dopo Ci abbiamo Questo E mettiamo Dentro il mondo In realtà Dipende Come è trato Lui Perché No ma Turno dopo Facciamo sicuramente Questo Adesso Devo Fa questo Spell da due Dipende Come è Quello che Mette dentro Spell da due Ok Eh l'oponent Non è Non è Stupido L'oponent E sto pensando Perché in realtà Di non morti Non ce l'abbiamo Pesco tre carte Se può pescare Però Secondo me La giocata più forte Al momento E fa Pescare da due Cioè Fare questo Ed evoca Una copia Cioè Secondo me Meglio D'acquici Non si può Fare E iniziamo A mettere Borde Lui è turno Sei Non può Togliere Tutti Due Cioè Non può Proprio Ora non ho capito Perché non ha copiato Questo Dio Questo ce l'ha pure lui È ok Non pensavo Tutta merda Tranne questo Allora Noi turno Dopo Eh Qua non è bella La situazione Non è bella Una l'ha fatta Ma vediamo Se c'è un'altra E l'oppo Non è stupido Pensavo fosse Più coglione Non procederai Oltre Pensavo fosse Più coglione E invece Vediamo se pesco Qualcosa È buono Qua Ok Ci sta Onesto La spell Da 5 E qua Mi è in cura Ok Ho due Lì me lo congela Quello No Non me lo congela Ok Non ho idea Di cosa Possa fare L'opponent Però Alla fine La fine del tuo turno Vediamo quello che scarta Il migliore Ok Per tutto ciò che ho dato Mi aspetta una ricompensa A mo vediamo quello che cazzo combina Perché in realtà ha fatto quasi tutto Ha fatto Ecco Questo non me lo potevo aspettare C'è come cazzo faccio a giocare intorno a quella carta Come faccio? Non posso giocare intorno a quello Io Come cazzo posso giocare intorno a quello Qualcuno sa dirmi come si scrive Da qua spero che non ha trovato la merda Coin Scegli me Scegli me Riavvolgimento Che cazzo è? Che cazzo è riavvolgimento? Boh Allora Che cazzo è? Eh ti danno mi piace Ti danno mi piace di più Invia tutti nella distorsione fatua Io non so che cazzo è La distorsione fatua Inclinati davanti al matrimonio Il centro sta per scadere Io spezzare Ma così funziona no No quello non funziona Ok Ok Sovracura E vabbè E' l'opera E' l'opera E' bravo Cioè nel senso Ok Porco Dio Io pesco tre carte Io pesco tre carte Questo è forte Questo no Questo no Ah secondo me E' c'è niente roba da toglie Secondo me Cioè se Se non riesce a far roba Adesso Su Marvel Snap Con ciccio Eh non sarebbe male Zeta Fede Il problema è che sto scarso Cioè non è che sto scarso Gioco orari un po' Del cazzo Cioè questo qua Non è male Che cazzo è sta roba Cioè tutto praticamente Coin Dio Cristo Vabbè grazie Il tuo Porco diavolo Quanto mi piace Quanto mi piace sta roba Lo più scarso Bravo Ah 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 Parca troia Grazie Una madonna DJ Questa è easy Sono Alessandro Quando sei venuto a Roma Siamo usciti Non mi ricordo di te Grande ciola Robo Jaraxxus Contro Jaina La mia magia Preparata Avronti Robo Jaraxxus Quindi sei l'amico di Sei l'amico di Di quella persona Che penso io Non mi di il nome Come se lo si o no Mi fa piacere che Sì 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 ho capito Ho capito Dai mi fa piacere Che stai qui Dai Ehm No Ma Tutto bene Sì 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 No tutto a posto Tutto a posto Tutto a posto Te invece come fai No ragazzi Non chiedete Non fate domande Per favore Non ha Ci sono certi dolori Che non passano Purtroppo Devo Distruggere Il campo sta per scadere Vabbè Tutto a posto Io spero Spero di sì Ah l'amico Dell'amico No non è cattiva Cioè non è stata cattiva Semplicemente No non è stata cattiva Cattiva no A volte bisogna assumersi Le proprie responsabilità Di ciò che si fa Ma non è assolutamente Una persona cattiva Assolutamente No lo difendo Perché sono stato Un coglione Cioè nel senso Ancora tutt'oggi Quando mi guardo Allo specchio Dico Boh Ripenso al passato Dico Va bene Va bene No ma a Roma Non ci vengo spesso Adesso Non ci vengo spesso Sì sì No 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 Se vuoi Scrivimi su Instagram Eh lo so Lo so Sbagliare è umano E secondo me Una seconda possibilità La meritano tutti Soprattutto se Però ripeto L'unico modo per Cioè io adesso Sono una persona Totalmente diversa Non penso al passato Zero Cioè non Rifiuto Qualsiasi tipo Di Di relazione Cose proprio Ma Mi ha segnato Mi ha segnato Mi ha segnato E mi ha Mi ha fatto aprire gli occhi Su tante cose E non posso solo Che ringraziarla Non è che Posso solo Che ringraziarla Esatto Posso solo Che ringraziarla Perché con me Almeno con me È stata gentilissima Sì 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 Assolutamente No no Ma che odio Ma che odio Ma che scherzi No no Odio no Assolutamente Analisi in corso Non posso farlo Allora Scatto Non morto Casuale Scatto Dalla mano Non morto Casuale Porca troia Questo è buono Però il turno dopo Ah no Però noi ci abbiamo pure E questo è buono Il turno dopo Perché noi il turno dopo Ci abbiamo pure il coin Quindi questo qua Ci permette Di fare il coin Carte pari però Cioè è un cazzo Cioè è un cazzo No Tra due turni Ce l'abbiamo Due turni di vita Penso che c'è Faccio Qui c'è Credo di averle Eh Ah no Aspetta Ah rantolo di morte Aspetta Eh Rantolo di morte Però mal che vada Ci abbiamo pure Questo qua Che resuscita E gli fornisce Rinascita Quindi alla fine Ci sta come roba Fare questo A turno 6 Faccio questo Coin Questo Altrimenti Ci rimango Inculato Qui l'unico problema È capire Che cazzo De carta C'ha l'opponent Perché il segreto Da dove l'ha preso Eh la madonna Dalla madonna L'ha preso Ci vediamo Scrivermi su instagram Grande ciola Scrivermi su instagram Scrivermi su instagram Dai mo Ci vediamo Se vuoi Ci vediamo Dai non è Non è un problema Tranquillo Se vuoi Se ti va Allora Hero power Ci abbiamo 10 carte in mano Fermo Tutto Solo che qua Se faccio Cose Dove Quello che faccio Faccio sbaglio Quindi Speriamo Non sia quello Che contrasta Porco Lo sapevo Lo sapevo Ma io lo sapevo Ma io lo sapevo Io mi chiamo Nostradamus Ma io mi chiamo Nostradamus Dio cristo Svela i segreti Perduti Nel tempo No no Non 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 Porca Troia Il problema Ma che questo Non rilevoca Quello di prima Quello potrebbe essere Qualsiasi cosa Senti Cambio di programma Cambio di programma Faccio altro Cambio di programma Cambio di programma Faccio una roba C'è Uno Uno Allora Penso di aver fatto La scelta giusta Comunque Abbiamo Broccato Non ce l'ha Il Il coso Questo che cazzo è Lancia due segreti Del mago casuali Dieci danni Ho perso Dieci Ho perso Dieci danni A chi Ammira Il culmine Della mia Ricerca Per una scena Di un film Io Registrare un film Allora Se me dovessero chiamare Per una scena Un film Fammi pensare Un attimo A un cachet Una scena Quindi una scena Una compazza Sarebbe Cioè Che significa Una scena No Di più Ma che è Mille Una scena Che significa Quanti minuti Ne vuoi ancora Demone Affronti Robo Joroxus Mille Il viaggio 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 Vita alloggio Cioè In descrizione In descrizione Ma credo che Sotto 2-3 mila euro Cioè dipende Che scena Dipende Quanto è Una comparsa Una scena Una scena Una scena Una scena Intera Che cosa Devo fare Cioè Non lo so Cioè Così Vorresti venire In una scena Se è una comparsa Che ne so Che in un giorno Prendo Vado via Faccio tutto In un giorno Nell'arco De 8-9 ore Va bene Ci sta Ma se devo Che ne so Se devo Stare lì Un mese Mille euro Che ci faccio Dipende 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 No ma te Non hai capito Devi andare A Los Angeles E registrarlo Ah Los Angeles Devo andare Allora Considerando Los Angeles Non so Quanti giorni Ci vuole E Non so Quanti giorni Ci vuole Mille euro E poco Cioè Almeno Cioè No Non Non ci rientriamo Non ci rientriamo Mille euro Ce ne vuole Di più Ma penso Che trovi Sicuramente Qualcuno Che ti ci viene Lì A Lì A Los Angeles Dai Ci stanno Qualche Ci sta Qualche attore Ci starà Qualche attore Eh Se consideri Il viaggio Devo Perdere Una settimana De live Devo Perdere Una settimana De live E tutto Il viaggio La feed Il network Che se prende Il 30% Il network 30 Dalle 30 Dipende Quanto Che roba È Ma Se devo Stare Due settimane Un mese Ci vuole Almeno 20 30 Se no Lascio Perdere Cioè Per mille euro Devo Fa Tutto il transatlantico Devo Fa tutto Quanto Cioè Per mille euro Devo Fammi Non so Quante ore De volo Per andare Non so Quante ore De volo Per tornare Giorni Persi Giorni Persi De streaming In un paese Nuovo Mille euro Non te Cioè Ti dico subito Non ti conviene Dico subito Non ti conviene Cioè Non lo so Onestamente Quanto potrebbe Essere Mille Tu mi hai Sietto Mille euro Ma Non so Quanto Attore Per una Scena È arrivato il momento Non so Non so Non lo so Qua c'è scritto 100 200 euro Ma ripeto Mille euro Mi sembra pochi Mi sembrano pochi Di solito Il manager fa questo calcolo qui Il mio manager Ogni giorno Che io sto fuori Che sia una fiera quello che è Per un giorno Che io sto fuori Poi ognuno è libero De pensarla come gli pare Per ogni giorno Quindi compreso anche il viaggio Io chiedo Cioè sotto a 2000 euro al giorno Sotto a 2000 euro al giorno Non Quindi se devo stare lì una settimana So Circa 14.000 Per un giorno Eh ragazzi C'era una fiera che stava Qui vicino casa Vabbè vicino casa Dovevo andarci La mattina alle 10 Alle 8 Alle 9 9-10 Ok 9-10 9-10 Dovevo andare lì Perché era Una festa Che diciamo De solito chiamava sempre Eh musicisti Un po' Così Un po' Vecchiocci Allora voleva tipo Allora voleva tipo Fa una cosa tipo Che ne so Chiamare E attirare più giovani Possibili E attirare giovani Della zona E tra le figure Dove Più popolari Risultavo io Qui nei dintorni Mi hanno contattato E mi hanno Mi hanno detto Guarda Matteo Devi venire qui Dalla mattina 7 ore De live E me volevano Da 150 euro 150 Ognuno è libero E pensarla Come gli pare Ognuno è libero E pensarla Come gli pare Il manager Gli ha detto Guarda Gli ha riso in faccia Gli ha detto Il manager Gli ha detto Guarda Noi Se tratta pure Di portare attrezzatura 3.000 euro Minimo 3.000 euro In su Noi non so Ragazzi Però penso Che c'è sta gente Che c'è sta gente Che ripeto 1.000 euro Non c'è spunto Assolutamente sopra Però 1.000 euro A Los Angeles Cioè io devo andare A Los Angeles Per 1.000 euro Tra cui che Puliti Quante saranno 200 euro A Los Angeles A Los Angeles Capisco Vito alloggio Pagato Nella rulotta Il viaggio Pagato Però Nel senso Credo che per una roba Del genere Per due settimane Se devo star fuori Due settimane Almeno 20.000 Ci vuole Considerando che io Ho aperto pure Giorni di streaming E tutto Il viaggio Il jet lag Cioè 1.000 euro Mi sembra un po' Cioè Perché mi si è scambiato Armature Armature Come nuove Ciao Valerio Come sto? Alla grande Te invece come stai? Bellissimo Come stai? Sì sì Lo so che si sono fatte le 6 Ma io qua Sto a perdere tutti i game Beh Yander Ovvio che è corretto Ovvio che è corretto Ma tanto quello è andato via Appena ho sentito 10-15.000 È andato via 1.000 euro Te lo posso fare Se stai sotto casa mia Se è qua sotto casa Che ne so Che Perdo un giorno De streaming Due Tre Cioè Te lo posso fare Non è un problema Ma già se devo venire a Milano Le posso dire no Se devo Che ne so Se è Los Angeles Ha sentito 15k E è andato via Ha sentito 15k E è andato via Eh oh A Los Angeles Ma chi cazzo è Che ci va a Los Angeles Per 1.000 euro Ragazzi A fare una comparsa A Perde giorni Di streaming Cose Devi preparare la valigia Tutto 1.000 euro Cioè Penso che troverà sicuramente Qualcuno lì Ne dintorni Ci può andare a Santinociola Per 1.000 euro Ma Nemmeno Ma io Oh Una comparsa dentro un film Sì Inesperienza Per carità di Dio Non lo metto in dubbio Magari è inesperienza Chiamala come te pare Inesperienza Quello che è Però Per tutto ciò che ho dato Mi aspetta una ricompensa Tutto sta per scadare 1.000 euro Devo togliere La percentuale del network Tasse e contributi Quello che mi ci rimane È 200 euro Cioè Voi per 200 euro Lo fareste? Cioè Roba che vado In America A Los Angeles Me voglio più Angelato Voglio andare da una parte Voglio fare un'altra cosa E 200 euro Parte così 200 euro Ma sì Che è un ragazzino Che scherza Costruisci Costruisci Il volere Dei creatori E sussurri Non riesco a resistere E sussurri Costruisci Allora mille euro ragazzi Se fossi che ne so Se fossi un dipendente Che prendo mille e quattro Mille e cinque al mese Ci andrei Subito Però avendo un'attività Avendo tutto Rifiudo O mille euro Cioè il viaggio me lo devo pagare io E' come tanta roba che tipo Faccio un esempio Un reality show in Italia Mi hanno chiesto di andare su un reality show E me davano Me davano vitto alloggio Tutto quanto Me davano vitto alloggio E me davano Mi pare Allora me davano Tutto quanto me davano Lì dentro il reality show Visibilità Ovvio La visibilità quella c'è sempre La visibilità Però se trattava Deve stare fuori un mese Fuori casa un mese Quindi un mese senza streaming Vabbè Ok Però quello che me dava ragazzi Era veramente poco Era mille e otto Mille e otto Mille e cinque Mille e otto Poi se vincevo Sì Un'esperienza Se magari è quello Che volevo fare Nella vita Però non Cioè farmi vedere in televisione Fare tv Ma a me fare tv Non me ne frega un cazzo A me piace Fare streaming Voi Devo Destruggere Ah la distorzione fado È praticamente quello Che ammazza tutti Che cazzo è Che cazzo è la distorzione fadoa Dio cristo Dio cristo La sponsor La sponsor che mi ha offerto Più di tutti È stata Cioè che mi pagava di più Era il server GTRP Quello francese Non mi ricordo Quelli pagava tanto Poi vabbè Diciamo che io dopo 3-4 live M'ero rotto un po' le palle Però M'ero rotto un po' le palle Ma Io L'ho salutato E poi Niente C'era Poi anche sandbox Lì come si chiama Sandbox Il metaverso Quelli lì Pure quelli Pure quelli M'hanno trattato bene Benissimo direi No 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 M'hanno veramente trattato bene Poi altre sponsor Vabbè Poi ci sta LevelUp Che pure LevelUp È una goccia fissa Tutti i mesi Quindi Alla fine Li ringrazio Perché sono Super gentili Super disponibili Ciao Q Wixi Ciao bello E non so come si legge Il nome tuo Wixi Buongiorno Guardate la rassa Il bundle LevelUp Hai preso? Bello Mi fa piacere No te prego Cazzo fai Mi fai mille una carta Porca troia Dieci carte in mano Ce l'ho Questa la mano piena Ma vaffanculo Mi serviva pure Uff Qua demonio Sorgi Allora Se questo Se questo ce lo uccide Noi ce lo rievochiamo Con questo 5 6 11 Massimo che ci fa È 5 danni Cioè 5 danni in faccia Però in realtà Insomma L'opera C'è 4 carte in mano Cazzo fa Non fa niente Cioè noi ci abbiamo Una marea di roba Qua Noi ci abbiamo Veramente tanta roba Ci abbiamo Una madonna Che cazzo è Che cazzo è Allora, poi Non abbiamo ancora finito con te Ma vaffanculo Il peggiore Il peggiore, cazzo E allora a sto punto facevo questo Cristo Dio 5 danni, riesci a farli? Da top decati da lì Da qua, da top decati? Ok Rienviene una magia Che cazzo è? La troia Rimiene una magia Che costa 3 o meno Prossima reliquia 7 danni, ok 1, 2 Ok Eh, se danni tutti i personaggi Pure a me però Pure la faccia mia Eh, ma qua Boh Non so mica se ce la fa Eh, non lo so Vediamo Lavoro plasma La vita Come la conosciamo Ok Ah, poi ne sono finito le carte Perfetto Orca droga Finalmente Dio Ok Porca Eva Cazzo Quello è fortissimo Oh, qua che scato Dio Cristo De Dio Dio Cristo Dio Cristo Dio Cristo Questo è cattivo Secondo me è meglio Per scappare Cristo Dio Eh, non so Che cazzo De carta c'ho Cristo Dio Questo è sicuro Armature Armature Come voi Dio Spensare Osso Dio Spensare Osso Non credo di avere nel deck La mia mano è piena Non credo di avere altri servitori grossi nel deck Che me possono salvare Comunque Credo che sia morto Cioè, credo che sono morto qua Non lo so Ma Appunto Uno e due Vabbè Sto deck ragazzi è una merda Perché o parte bene O parte bene O non vinci Le cose due O non parti bene O non vinci Non puoi avere una Cioè, una vittoria Buona Cioè, fondamentalmente Pure Pure il rogue Per assurdo Pure il rogue Per assurdo Non puoi Parti bene E vince Cioè, fondamentalmente Questo è il deck migliore Questo qui Con questo ragazzi Le vengo dute Con questo Le vengo dute Ragazzi Che la caccia abbia inizio Che la caccia abbia inizio Ha! geek Che la caccia abbia inizio Che n' volcano èamone Che la caccia abbia l'ar Une Tommi Che dà oris Che 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 Madonna santa che sonno Però ragazzi la voglia di fare 10-0 e tanta La voglia di fare 10-0 e tanta Non me ne frega un cazzo Baffanculo faccio 10-0 qua Siamo contro un mazzo di merda Ma gli auguro di non giocare più Porca puttana Ma gli faccio deletta il gioco a questo Ma te lo dico io Non si perde Faccio il prediction 10-0 ragazzi 10-0 sto qua con l'asciugamano E tra iardo 10 win defila 10 win defila ragazzi Allora non sono lucido Ma il mazzo ragazzi che sto giocando ora E' veramente forte E' di una potenza inaudita Veramente Giuro Di una potenza inaudita Allora sto pensando adesso Si Fare la spell da 1 Io direi proprio di si Spell da 1 Così poi la sviluppiamo Turno 3 Facciamo questo Turno 2 Turno 3 Questo Questo Poi turno 4 Questo Questo più il coin Cioè Buffo tutto E metto dentro un Gesù Cristo No Forte Cioè Forte Non ci sta altro da dire Il mio dolore Non è paragonabile Alla tua Pugliata Questo Questo non me ne frega niente Io ho Due segreti Freezing trap Trappi in culo Freezing trap E dopo che ho giocato Tre carte Do Io Tre vermi Bello preciso Potevo fare pure il segreto In realtà non era male Il segreto Cioè Mettevo un pezzo 2-1 Ma in realtà Mo' vediamo Mo' che cazzo è Mo' che cazzo è questa Che cazzo l'ha vista mai Ah non attacca eh Non attacchi eh Stronzo Intelligente l'opponent Pensavo fosse un pochino Più stupido Non ci crederà nessuno Indovino Lui me ne potrà da solo uno però Anzi due con l'arma Questo devi andare in mano E te lo saluti Fai l'arma Fuori da erbendo Ah Armatura Cazzo Porca droga Ok Vado con Il drop da uno E poi il turno dopo Gli facciamo La supposta Gli metto dentro Vai Se non è il turno dopo Sarà tra due turni Perché noi Vogliamo fare questo Il turno dopo Questa qua Che ci buffa tutti i minion Cioè Fortissima Dai Questo ci ho avuto un culo Dalla madonna Ma che cazzo è Sta roba Che fai Gli sei danni Io Tre carte in un turno Che cazzo è questa Porca droga Quanto cazzo Se Vince Che è l'ital No ma Allora Qua è queste le giocate Non posso fare nient'altro Noi aspettiamo Che l'oponent Mette giù board Però Essendo un mazzo Verde Io non ho idea Di cosa gioca L'oponent È diverso Cioè Qua mi pare Deck De merda Mi sembrano Mi sembrano Deck Di merda Questi Troppo forti Perché magari Scappa fuori Qualcosa È diverso Io caccio Da solo Forti Dopo tre turni C'ha tre turni Per tirarle Primo turno Sì Secondo turno Primo turno Piano piano Sì 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 Questa è forte No porca la troia Non è Ok Buona Finito Ok Dai però Tre carte Le devi tirare Dai Su Ma che cazzo Ne tiri una sola Secondo turno E il turno dopo Perdi Cioè Non ci sta Altrimenti Che roba Non ho capito Il video Matteo Qual è il video Dove è stato in piscina È la live Però non so se c'è Vito solo Grazie mille della sub Con il tier 1 Pagante Grazie Questa è già attaccato Ma quindi Mi dà pure L'armatura No Porcazzo Questo c'è Assalto Dopo Assalto Lo togliamo tutto Me ne frega Proprio un cazzo Ma che c'è All'oponente in mano Ok Questo è l'ultimo turno Per tirare le carte Perché dopo Gli muore Questi due Gli muore Ah Ci senti Ci senti Ah 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 coglione Ah Gli piace Ci sente Che sfiga Quanto è No 10 13 Troppo forte Troppo forte Per non farlo Diamo un po' Se fingo Finito No Porco Dio No Ma che è Sta sfiga Dai ma che è Sta sfiga Che cazzo è Quando L'accusatore Subisce Vabbè Ma non è un problema Tanto noi abbiamo questo Stiamo pure tante di vita Alto Vabbè lui c'è l'arma Che è forte La morte Non può essere Incapenata Sì sì Il me è sorda Sì sì 1 0 Loud Hunter 80% De qui Allora Loud Hunter Ragazzi Non so Quanta qui Rate Ciao Ciao Bussone Come stai Ciao Bello Non so Quanta Qui Rate C'ha Ma credo Più Dell'80% Ragazzi Io devo andare in bagno Pure a fare i bisogni Arrivo Prima il gioco Mi mangio un po' di ponenta E poi vado in bagno Retsar Contro Alveria Nessuno conosce la verità del mio dolore Che la caccia abbia inizio Che la caccia abbia inizio Vedo che hai portato L'ospiti Il mio sangue Rivolle per la guerra Tampoco guarda a dormir Un po' di violino Piace sempre Tra poco Prima voglio far 10 vittorie Turno 2 Questo Bello preciso Turno 2 Questo Poi turno 3 C'ho la spell da 3 Che ci sconta anche questo Poi turno 4 Vediamo Hero power Poi abbiamo il coin Possiamo fare un milione di cose Con il coin Cazzo è Cioè fondamentalmente Erso non l'avranno fatto Meno Cioè Fondamentalmente Ehm Calma Calma Mo' vediamo Quello che cazzo Si inventa L'opponent Ma noi qua Il turno dopo Ci abbiamo troppa roba Noi possiamo fare questo Ci viene L'arma Possiamo andare in faccia Turno dopo ancora Ci abbiamo Cioè Le armi qua L'ultimo L'ultimo dei problemi 3 danni Anzi 6 forse Non so nemmeno Se and'appaccio Onestamente Mo' vediamo Che cazzo era Ah Eh Ci abbiamo questo Io caccio da solo Ci abbiamo qui Prima ci deve procac... Ah Tra un turno Si risveglia Io caccio da solo Prima ci deve procacquello Poi possiamo fare le armi Se no ce le levano Non c'ha senso Quindi il turno dopo Io Farei direttamente Coin questo Tanto questo Ce lo leva però Il problema è che Non abbiamo un altro Count Magari non trada Se trada Invece Cazzi sui No no Non è una replica Ma che cosa Cazzo Te ne frega Mustafai So Robbe di Tre anni fa Cosa te ne frega Non ho capito Cioè non capisco Cosa te ne frega Desta roba Cioè Hai mai fatto la sub? No E allora Non è una cosa che ti riguarda Cioè Non devo Non devo dare risposta A nessuno Io su quella maratona Che ho Che ho interrotto Cioè che cosa vuoi sapere Di quella maratona Non ho capito Che vuoi Che vuoi che io Cosa ti dica Cioè non ho capito Che vuoi che ti dica Io caccio da solo Dore Margo Margo Hanno bisogno di noi Ora più che mai Non ho Non l'ho continuata Perché non avevo più Collaboratori seri E non ho più trovato Nessun collaboratore serio In quel periodo Ho preferito Ho preferito Smettere di fare Le maratone Così lunghe Per poi Diciamo Iniziare a farle Ecco così appunto So che ci mancavano Due mesi Però Ho preferito Adesso preferisco fare Preferisco fare Due maratone All'anno Corte Che durano massimo Dieci giorni Da solo Senza collaboratori Problemi Cose Perché guarda De incazzamme Non ce n'ho proprio voglia Guarda Rezzar Contro Rezzar Sento il richiamo Della selva Che la caccia Abbia inizio Sì ma Leo Sotto covid Poteva farlo Poteva Stava a casa mia Poteva farlo Mi dava una mano Però Leo È più un amico Che Cioè È più un amico Che un collaboratore Leo Leo è più un amico Che un collaboratore Che cazzo è? Alle 6 e 20 La risposta Alla fine Sì Quelle madonne Io ieri Ci sono provato Ma non mi hanno risposto Zero Cici babbo Che è Alle 6 e 20 Di mattina Ah non lo so Comunque La maratona Quella lì Digli un po' Che collaboratori Siamo trovato Cioè vabbò Perché? I collaboratori Della maratona Perché l'abbiamo Stoppata Quella Quella grossa Quando ci siamo Trasferiti qua Perché l'avevamo Stoppata L'avevo L'avevo Ricontinuata L'avevo Stoppata Poi l'avevo Ripresa Ma il problema Ma il problema Ehm Ehm Persona Che stavano Che stavano qui A casa mia Fisicamente Che intrattenevano Che venivano qua Per Cioè tanti venivano qua In villeggiatura Sembrava Sembrava Se venissero Per farmi un favore Non sono riuscito A trovare Gente seria E niente Lo mago Che mi ha denunciato Lo mago Donna Che gli era preso Non so Che cazzo Gli era presa Donna Qua a Mondiciverso È stato Un macello Per tutto Cioè da quando Mi sono trasferito Qua a Mondiciverso È successo Il delirio Chi? Gennaro Mi ha tradito Mi ha tradito Quei mica Stavamo fidanzati Non ci crederà Nessuno Non ci crederà C'entra sempre lui Ma che Ma che stai a dir Scusa Ecco vedi Cioè nel senso Con Ti devo più a bannare Perché Stai di cazzate Stai a sparare cazzate Via Banno Via Ma che cazzo Ma che cazzo Ne so È uno che Già quando Già quando Mi ha chiesto Per quale motivo Avevo smesso la maratona È uno che Già l'ho visto Che c'è a carogna Era già da bannare Lì subito E su ragazzi Che fate di bravi Santa madonna Ma che È il suo stupolo Ma che ne so Ma il suo stupolo Forse A te Ma Non lo fate Favere i cazzi Voi Gli avversari Conosceranno La nostra Rappia No no Dopo il trasloco Dopo il trasloco Ragazzi Purtroppo L'ho dovuto A stoppare Perché mi sono ritrovato Con i collaboratori Allora È successo Che uno Sarà andato via Perché Sarà andato via Dove è andato via Non è Poi Don A una certa ora Cioè Io pagavo Don Tot euro Allora Favendo determinate cose Purtroppo Con Don È andato a finire male Perché Dopo me sono finito L'ho trattato male Don Quando L'ho trattato male Perché Sono successo E varie casini E varie cose Che c'è a questo? Turno 7 Turno 7 Che può fa? Può fa la spedda 7 Che evoca Il charge Ma non è detto Che ce l'ha il charge Poi Che è successo? È successo Che ho deciso Di non Ma questo Che cazzo C'ha Basta Basta Ma che cazzo È sta giocata Come facevo A prevederla? Mai vista Sta versione Prima volta Che vedo Sta versione Questo Dei